Musica Ben ritrovati da Orobi e Extra, oggi parliamo del Monte Aga che è la montagna segreta del numero di agosto della rivista. Non soltanto ambienti naturalistici molto belli e suggestivi ma anche importanti segni del passato. Ci sono iscrizioni e incisioni che risalgono a tanti secoli fa. La scoperta è stata fatta 11 anni fa. Ne parliamo oggi con la direttrice del Museo archeologico di Bergamo, Stefania Casini. Ben trovata. Grazie. Che cosa si può vedere sopra Carona? A Carona abbiamo identificato, grazie a una segnalazione che è stata fatta nel 2005-2006, da Gian Felice Riceputi, che purtroppo è poi mancato, e Francesco Dordoni, che sono due persone di Carona. Abbiamo avuto questa segnalazione di incisioni rupestri e accompagnati da loro abbiamo fatto una prima escursione in cui abbiamo potuto verificare che l'area delle incisioni rupeste è molto estesa, che si trovano oltre una quota di 2100, quindi tra 2100 e 2400 metri sul livello del mare, e che la maggior parte di queste iscrizioni sono di età storica, quindi da attribuire, diciamo, ai pastori che frequentavano, che hanno frequentato nei secoli, direi, l'alpeggio. Però, su qualche roccia abbiamo avuto la fortuna di identificare anche delle incisioni molto, molto più antiche. E in particolare c'è un grande masso che noi abbiamo chiamato Kamisana 1, che riporta, che ha una superficie di circa 30 metri quadri, quindi ampia, ed è ricchissima di incisioni e c'è una stratigrafia proprio di incisioni molto complessa, che dà anche l'idea, diciamo, degli interventi nel corso dei secoli, che sono intervenuti, quindi le persone che sono passate, che hanno lasciato una memoria. E le figure più antiche, scena che purtroppo è stata obliterata da una, probabilmente da un proiettile di un, durante la guerra, di una mitragliatrice, che ha obliterato poi anche altre scritte, altre figure. Insomma, c'è una scena principale con dei lupi, con le fauci aperte, e un personaggio con una tunica, che sembra colloquiare con questi lupi. Quindi, intorno a questa scena, che si data per i confronti al V secolo a.C., si distribuiscono queste iscrizioni che sono prevalentemente preromane, e che vanno appunto dal V secolo al I secolo a.C. Quindi, direi che questa roccia è un monumento unico, non solo in Italia, ma in Europa, perché veramente non esiste un corpus di iscrizioni celtiche, preromane, così ampio, tutto in un unico... In un blocco. In un blocco, esatto. Ed è, naturalmente noi adesso lo stiamo studiando, settimana scorsa eravamo a fare i rilievi, perché appunto è necessario capire la successione di queste iscrizioni, in cui, diciamo, le più importanti sono delle dediche al dio Pennino, che è il dio celtico dei monti e delle vette. Quindi, come dire, è una testimonianza di grande importanza, proprio perché si trova a questa quota, 2300 metri, vicino al passo, che è il passo di Valsecca, ed è il masso, fra l'altro, circondato dalle sorgenti del Brembo. Quindi, una posizione... Probabilmente un luogo che aveva attirato proprio per queste suggestioni. Esattamente, esattamente. Le altre testimonianze di Pennino, solo per dire, citarne una veramente importante, sono quelle del Gran San Bernardo, che è comunque un passo, e dove c'era un santuario pre-romano, che poi è stato monumentalizzato in età romana, e a cui, appunto, si rivolgevano i passanti per ottenere la protezione del dio Pennino nelle fasi di transito, perché, ovviamente, transitare in montagna un tempo non era così agevole e così sicuro come oggi. E quindi, anche, diciamo, anche il masso di Camisana aveva questa funzione, si lasciavano delle dediche, augurandosi di poter passare indenni il passo. Cosa si sa di queste popolazioni che abitavano questi luoghi? Ma, allora, l'area di Carona... Cioè, dell'area di Carona noi non sappiamo quasi niente, perché non ci sono ritrovamenti ad eccezione di questo masso. Certo, la lingua di queste iscrizioni è prevalentemente celtica, quindi ci dice che la zona era abitata e frequentata da genti celtiche, però ci sono anche delle iscrizioni in alfabeto e lingua camuna. D'altronde, diciamo, questa popolazione alpina viveva al di là del passo, quindi in Val Seriana già, e quindi i contatti ovviamente erano esistenti e anche loro, su qualche roccia un pochino più a valle, hanno lasciato delle testimonianze. Anche voi, come museo, organizzate delle escursioni per andare a vedere? Sì, e noi tutti gli anni organizziamo un'escursione insieme al comune di Carona e la Proloco, è un'escursione proprio per visitare le incisioni rupestri ed è guidata da un'operatrice del centro didattico culturale. È un'attività che rientra nel progetto Archeducando, che è un progetto regionale finanziato dalla regione Lombardia e che ci permette di fare varie attività di carattere archeologico anche in provincia, laddove ci sono aree archeologiche, musei con raccolte archeologiche e altro. Citava prima appunto il fatto che siete andati a fare nuovi studi, nuovi rilievi proprio nei giorni scorsi. Avete in corso altri approfondimenti nella Bergamasca? Ma a dire la verità sì, è nello stesso luogo perché abbiamo indagato anche un sito che si trova a quota più bassa, circa 1600 metri, e abbiamo scoperto che è un villaggio minerario e le datazioni più antiche risalgono ad epoca Longobarda e settimana prossima, per due settimane, saremo lì a scavare. E il museo resta aperto con tante iniziative, anche ovviamente durante il mese di agosto? Certamente, anzi con parecchie iniziative. Basta consultare il nostro sito del Museo archeologico oppure anche quello del Comune, sotto Bergamo Estate sono indicate tutte le iniziative. Siccome chi ci legge appunto a mandare in montagna e a mandare escursione, un'escursione archeologica che non sia questa di Carona, un suggerimento? Un'escursione in montagna di particolare interesse in alta quota è il Monte Bego dove si trovano anche lì iscrizioni nelle Alpi Marittime, al Colle di Tenda, praticamente si parte dal Colle di Tenda e si sale alle stesse quote di Carona, si trovano però incisioni rupesti molto 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 più antiche che risalgono all'età del rame, all'età del bronzo, oppure anche la nostra Valcamonica può essere, anche se le quote sono più basse, però penso che sia un'escursione di grandissimo interesse. Grazie, grazie anche a voi. Avete avuto ottimi suggerimenti per i prossimi mesi? Grazie.